Per noi il bravo Passarelli resterà sempre un punto di riferimento, importante, fondamentale per la nostra professione e per il nostro ordine. Noi abbiamo inteso fin dal primo momento ricordarlo e istituzionalizzare questo appuntamento, siamo già alla terza riduzione e assieme anche a questo convegno sulla materia per la quale lui purtroppo ha perso la vita e che tanto lo appassionava, abbiamo deciso di affiancare anche la premiazione dei migliori studenti congiungendo loro una borsa di studio che può servire da stimolo, anche un piccolo stimolo economico in un momento di grande difficoltà, quindi per un ragazzo può servire tanto. E quindi noi, ti ripeto, abbiamo voluto e continueremo fin quando sarò io presidente, ma anche chi mi seguirà nei prossimi anni sicuramente a portare avanti questo appuntamento per ricordare sempre di più la sua figura che è stata, ripeto, di grande importanza per il nostro ordine, stato presidente per circa 12 anni, quindi una figura veramente fondamentale per la nostra categoria. Grazie.